I carabinieri di Fano, a soli quattro giorni dall'arresto della giovane coppia sorpresa a nascondere etti di cocaina in un campo di girasoli, hanno portato a termine una nuova azione di contrasto al fenomeno dello spaccio di stupefacenti in città. Nel Mirino, un gruppo composto da sei soggetti di nazionalità italiana e albanese, tra cui alcuni di questi residenti nel Fanese. Le indagini sono partite inizio anno a seguito di un piccolo recupero di cocaina operato dai carabinieri di terre roveresche nei confronti di un consumatore di San Giorgio di Pesaro che aveva fornito circa la provenienza dello stupefacente. Le indagini avevano identificato e fermato il pusher di piazza trovando importanti spunti per identificare il suo fornitore, un sessantenne albanese noto come Bull. Nei suoi confronti si erano incentrate le attenzioni da parte dei carabinieri in quanto si era subito dimostrato un soggetto di media rilevanza nella filiera dello spaccio di cocaina ed hashish in città. Grazie alle moderne tecnologie adottate dei carabinieri sono riuscite a contrastare le tecniche ideate dal sessantenne per identificare tutti i membri del gruppo criminale e il suo fornitore di riferimento, risultato il nipote con cui teneva rapporti, concordando le quantità ed il prezzo della droga ed era sempre lui a ricevere le ordinazioni dei piccoli pusher ovvero degli acquirenti più fidati. Le consegne così come le trasferte erano affidate al nipote che si spostava a bordo di una vecchia punto rossa in uso alla famiglia di Bull. Le partite di droga erano affidate a un 45enne fanese tecnico di palcoscenico che dopo aver ricevuto la quantità che doveva spacciare gliele faceva avere direttamente tramite il nipote. L'aspetto rilevante è stato quello di scoprire che il tecnico di palcoscenico occultava le partite di droga nei locali del teatro della fortuna di Fano, luogo in cui lavorava. I proventi dello spaccio erano affidati a un sessantenne operaio edile residente a Fano da circa 20 anni conosciuta le cronache giudiziarie. La svolta delle indagini è venuta a fine aprile scorso quando il nipote si era recato in Romagna per rifornirsi da un connazionale di duetti di cocaina. Il viaggio di ritorno è stato interrotto al casello dell'A14 di Fano dove l'aliquota radiomobile lo hanno arrestato in fragranza. Inoltre i carabinieri hanno sequestrato la cifra di 11 mila euro a conto per la nuova fornitura. Questo filone investigativo ha indotto il GIP a convalidare l'arresto del sessantenne albanese, il nipote, il grossista, il custode della droga concedendo gli arresti domiciliari solo alla cassiere che nel corso della perquisizione della sua abitazione è stato trovato in possesso di altri 8 mila euro in contanti. Abbiamo sequestrato oltre 20 mila euro, oltre un chilo e mezzo di cocaina nella totalità delle varie azioni, quindi possiamo dire che è un'operazione importante che si collega a tante altre fatte dalla stessa compagnia su tutto il territorio della nostra giurisdizione di competenza. Avevano un giro notevole direi di soggetti che ne richiedevano ovviamente in particolar modo la cocaina.